Entro l'estate la nostra intenzione è quella di presentare una prima versione del piano regolatore per riuscire a dare alcune linee guida di indirizzo, a sottoporre agli organi in primis, il comitato di gestione e poi a tutti gli organi. Questo percorso sarà evidentemente anticipato da un confronto con tutti gli stakeholder pubblici, comune in primis, regione e tutti i rappresentanti del territorio e anche privati perché naturalmente il piano regolatore è un momento di sintesi fatta dall'autorità di sistema ma ben consapevole che gli operatori, anche le parti datoriali, anche i rappresentanti sindacali sanno indicare eventualmente esigenze che talvolta possono sfuggire. Il nostro compito è quello di fare sintesi e di cercare le soluzioni migliori per questo sviluppo pianificatorio. È ipotizzabile in una data o comunque un fine anno di approvazione del piano regolatore portuale o si rischia di andare oltre? Il piano regolatore ricordo che innanzitutto è uno strumento tecnico quindi è composto da elaborati molto complessi ed è sottoposta a una procedura in particolare ambientale molto lunga e complicata. Noi puntiamo a dare il vio a questi lavori perché il nostro compito è quello di dare delle date di avvio e come dicevo nel nostro cronoprogramma di lavori stiamo oggi intensificando gli approfondimenti. I primi studi tecnici e economici sono stati consegnati negli ultimi giorni da parte del soggetto che abbiamo individuato supporto di questi lavori quindi in questi mesi faremo sintesi di quello che è pervenuto e il nostro obiettivo è quello di arrivare entro l'estate alla pre-adozione in comitato di gestione. Per le riparazioni navali è possibile pensare anche a uno spazio con la nuova diga grazie a quello che si può ricavare spostando la diga? Sì, diciamo che lì abbiamo un tema di un pezzo di diga che come sapete è sottoposto a vincolo e quindi non possiamo andare a demolire. Sicuramente gli spazi che darà la nuova diga consentiranno comunque una migliore accessibilità anche di compatibilità quindi di insicurezza tra le attività del commerciale e delle riparazioni navali e quindi dei benefici ci saranno sicuramente sull'accessibilità nautica anche per la riparazione navale ad esempio penso all'ex superbarcino o al cerco di evoluzione attualmente inserito davanti al terminal SEC sostanzialmente se vogliamo identificarlo geograficamente sicuramente cercheremo di sviluppare nuovi spazi a terra che sono quelli che sono fondamentali.